ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornate tutti quanti su questo canale e un benvenuto ai nuovi invito tutti quanti chi volesse a iscriversi a questo canale attivando la campanellina cliccando su tutte allora oggi facciamo diciamo un interattivo quindi chiaramente sapete benissimo che è valido per tutti da prendere comunque sempre con le pinze e prendete quello che eventualmente vi risuona e sentite più vostro il resto lasciatelo pure scorrere allora scegli una piuma quindi oggi facciamo due stese ben approfondite con vari messaggi diciamo cos'è che devi sapere più che altro vediamo cos'è che ti deve arrivare proprio adesso in questo momento che apri questo video chiaramente sapete che io non credo al caso quindi questa sincronicità che ti ha fatto aprire questo video qualcosa ti dovrà dire quindi senza concentrarci troppo su questo o quello va bene o a destra o a sinistra quello che è facciamo proprio lasciamo fare ok alle energie e vediamo proprio oggi che cosa viene fuori intanto metto un messaggio cardine dai miei oracoli divini e vediamo un po' cos'è che deve venire proprio oggi per te intanto mischio queste qua poi ti faccio scegliere la piuma intanto vediamo cominciamo a mischiare queste e ti faccio scegliere proprio la piuma quindi la stesa numero 1 e la stesa numero 2 vediamo i messaggi che devono arrivare oggi e chi ascolta con i nostri due bei guardiani qua allora per la piuma numero 1 questa e per la piuma numero 2 questa abbiamo fatto quindi piuma numero 1 piuma numero 2 e appunto la prima piuma è la piuma color pesca questa e la piuma numero 2 stesa numero 2 la piuma azzurra scegli pure e poi cominciamo con le energie e vedere che messaggi che devono arrivare scegli pure allora se hai scelto appoggio la stesa 2 qua ben visibile così sta qua e partiamo stesa numero 1 chi ha scelto questa piuma la mettiamo tra i nostri guardiani qua bella bella la piuma pesca quindi andiamo con la piuma pesca e vediamo il primissimo messaggio cardine per te qual è? ero io quel soffio di vento che hai sentito 11 22 dei numeri molto importanti per te chiedi aiuto agli angeli questo è proprio un dirti a qualcuno qui in questo momento deve proprio arrivare un messaggio molto preciso e cioè che ero io quella persona quel soffio di vento che hai sentito io presumo sia o appunto una persona che non c'è più che magari era un tuo defunto caro era una persona della tua famiglia oppure proprio un'entità di luce ok un angelo una guida spirituale che vuole un maestro asceso insomma che vuole dirti che magari proprio o poco tempo fa o molto tempo fa questo dipende da chi ascolta ha sentito qualcosa di strano si è accorto di qualcosa tipicamente l'entità di luce ma anche i nostri defunti fanno un po' dell'aria fanno un po' del vento quando passano vicino cercano proprio di ondeggiare di far muovere l'aria che normalmente sarebbe ferma a meno che non c'è una finestra aperta insomma queste cose qua ma di solito qua questo è proprio un saluto che ti viene è proprio un saluto per te e ti sta dicendo proprio ero io questo è un bellissimo messaggio devo dire che ti sta arrivando proprio adesso perciò chi all'ascolto ha sentito questo soffio di vento sappia che era proprio la persona di solito è la prima persona che ti è venuta in mente quando hai letto questo e quando io ho iniziato a spiegarti il perché e che cosa significa questa carta di solito è proprio così che funziona la prima persona che ti è venuta in mente è lei o lui va bene quindi questo era proprio per te il messaggio che assolutamente dovevi sapere in questo momento va bene da qualcuno che ti vuole mandare comunque un salutino va bene allora adesso proseguiamo andiamo avanti con altre energie proseguiamo con l'idea del divino femminile e vediamo un po' che messaggio c'è qui adesso per te che ascolti vediamo un po' stesa uno piuma pesca quale idea qui vuole dare un messaggio vuole parlare vediamo un po' coventina purificazione è tempo di pulire ok e disintossicare il tuo corpo e la mente qua ci dice proprio che è ora che ti stacchi un pochino ecco qua la metto vicino ok che ti dice proprio di purificarti è tempo di una pulizia proprio ma un detox lo chiamo qua proprio una disintossicazione del tuo corpo e della tua mente ok qua c'è bisogno di staccarsi da magari per alcuni di voi anche da qualche abitudine che non è proprio come dire sana ma non è solo un'abitudine fisica può essere anche un'abitudine mentale ok anzi più delle volte sembra proprio che poi sia mentale però questo vedete voi insomma è un collettivo quindi può essere una e può essere anche l'altra perciò questa dea ci dice proprio questo una purificazione per te c'è bisogno magari lo senti anche lo hai anche sentito avvertito sia adesso ma anche in passato insomma questo dipende però pulizia e purificazione del tuo corpo e della tua mente per alcuni può essere più il corpo per alcuni più la mente per alcuni anche entrambe perciò è importante qua uno può dire ma come mi purifico allora la purificazione avviene sempre tramite la luce quindi comunque chiedere ok di essere purificati chiedete sia l'arcangelo raffaele ma va benissimo anche al vostro angelo i vostri angeli chiedete proprio che venga insomma iniziata è un processo che inizi un processo di purificazione proprio tuo ok chiediglielo chiediglielo chiedete qui bisogna chiedere di essere inondati di luce va bene consiglio anche a tanti la fiamma viola ok perché la fiamma viola ha proprio questa azione trasmutatrice di tutte le cellule come dice il nostro amato maestro ascedo saint germain squalificate cioè che non stanno più girando come dovrebbero no perché nasciamo con queste cellule perfette va bene quindi divine con dentro la scintilla divina che poi si va a modificare per 10 milioni di ragioni durante la nostra crescita della nostra vita quindi queste cellule bisogna riportarle al loro equilibrio originario e cioè divino perciò usate anche chi di voi lo sa ma chi non lo sa si vada a guardare il video di saint germain della fiamma viola che su questo canale chiedete proprio che questa fiamma viola vi purifichi vi disintossichi è perfetta per questo tipo di lavoro qua poi altre cose adatte possono essere comunque sempre la meditazione va bene e comunque vedere questa luce chi ha reiki faccia pure reiki a go go che è un ottimo modo per riequilibrare chakra mandare luce purificare togliere energie negative quindi chi ce l'ha è un buon consiglio per rimagare tanto che non ti fai reiki o che cosa quindi riprendilo pure in mano può essere anche questo un consiglio per te andiamo avanti vediamo anche altre energie per te adesso com'è vediamo un po' perché ascolta stesa 1 piuma pesca vediamo un po' qua cosa c'è da dire qua come energie abbiamo il sogno il numero 6 che comunque ci indica un rapportarsi troppo spesso al passato quindi qua comunque c'è da togliere questa diciamo abitudine che non è proprio delle migliori perché perché non si deve vivere in nessun tipo di spazio che sia lo spazio del passato lo spazio del futuro se non quello del presente l'unico il qui e ora che deve essere vissuto è quello attuale qua abbiamo una diciamo una inclinazione se vogliamo a essere troppo troppo presenti troppo avere troppi pensieri per quanto riguarda qualcosa che è già avvenuto che è dietro di te non che è davanti a te o che è adesso in te diciamo in questo momento perciò ora un po' di pianificazione non dico che non si debba fare nel senso futuro ma molto prossimo veramente non fra dieci anni quindi un po' di futuro sano pianificazione ok ma non perché il futuro è l'ansia il passato è comunque l'ansia l'unica cosa è il presente che ci può salvare quindi stando ben concentrati su qui e ora qui c'è da togliere questa abitudine ti dicono quello che devi venire a sapere oggi togliti questa abitudine ok di andare sempre all'indietro di andare a vedere comunque sempre il passato di andare a insomma pensare ma se era così ma se era colà non ci interessa quel tipo di cosa lì non ci interessa e non ti deve interessare perché ti abbassa l'energia un'altra cosa anche che abbassa molto l'energia è il porsi continuamente le domande se ho fatto così se non ho fatto così se va bene se va male no allora bisogna molto lasciar fluire l'energia molto lasciarla scorrere da sé non importa se a volte fai anche qualche errore se commetti se qui se lì tutti questi sei tutte queste domande sono cose che vi portano nella terza dimensione quindi se mai hai fatto un certo tipo di lavoro quel certo tipo di lavoro va a scendere quindi le domande a zero le domande grandi maestri quelli che sono diventati ascesi non facevano domande eseguivano e basta ma non perché erano schiavi attenzione è un eseguire un volere divino una cosa di luce non è un eseguire diciamo da perché stiamo sotto dittatura allora qua c'è solamente da fare da essere convinti va bene qui devi essere convinta o convinto che comunque nel tuo presente così è così come deve essere non c'è nulla di sbagliato quindi procedi verso la tua strada senza fare troppe domande va bene questo è fondamentale è una cosa che per chi lavora con le energie e vuole maturare crescere perché questo è un canale di crescita personale è una cosa che deve mettersi in testa sin da subito le domande lasciamole dove stanno va bene perché a volte si hanno più risposte quando non si chiede veramente cioè arrivano proprio strada facendo le cose ti si schiarisce proprio ti viene proprio così diciamo un mondo ti si apre davanti a volte anche senza volerlo è andiamo avanti con i tarocchi degli arcangeli vediamo adesso perché ha scelto la piuma pesca la stesa 1 cos'è che c'è da dire adesso qua che deve sapere la persona che ha scelto adesso questa stesa che sta ascoltando ora cos'è che dobbiamo dire alla persona che ha scelto proprio ora questa stesa che sta ascoltando vediamo un po chi c'è il paggio di aria affidabile intelligente istruito equilibrato ti viene offerta un'eccellente opportunità borse di studio o continuazione degli studi è tempo di mettersi al lavoro ci dicono qua quindi qua qualcuno magari o ha ripreso in mano qualcosa non aveva finito insomma qui dipende qui vedete proprio che c'è questa specie di biblioteca con tutti questi libri va bene o forse potrebbe essere anche di dirti qui qualcosa del se ne vai a fare la meditazione della cascia mi viene anche questo perché guardate un po con questa enorme biblioteca no con l'angelo in mezzo qui comunque adesso a parte quello potrebbe essere un intuito mio così però qui dice che c'hai adesso in questo momento un'eccellente opportunità che c'è ok borse di studio continuazione degli studi quindi se stai facendo corsi di aggiornamento hai ripreso l'università ti piace tanto qualcosa vuoi fare quel corso stai frequentando una scuola parallela insomma queste cose qui qualsiasi cosa di tutto questo tipo va bene è tempo di mettersi al lavoro quindi continua pure ti dice anche che eventualmente anche una buona scelta quella che hai fatto è perché mettiti al lavoro ti dice non è che ti dice attenzione a quello che hai scelto di fare qui ti dice mettiti al lavoro quindi anche sottinteso va bene che comunque la cosa è anche una scelta giusta tra l'altro quella che hai fatto adesso andiamo a vedere proprio il significato del paggio di aria il te lo leggo proprio parola per parola e vediamo è questa la mia interpretazione poi vediamo se c'è qualche valore aggiunto che possiamo dare alla mia interpretazione allora qua ti dice questo ti viene offerto un'eccellente opportunità dovresti perseguire i tuoi interessi nel campo dell'istruzione probabili borse di studio ti verranno offerti consigli su cui contare e soluzioni valide per risolvere i tuoi problemi potresti maturare un nuovo interesse o passione è tempo di mettersi al lavoro allora qui potrebbe essere anche un giovane che ama imparare apprezza le sfide accademiche qualcuno che è felice di essere vivo e vede infinite possibilità affidabile intelligente profondo equilibrato altri significati vuol dire formarsi e istruirsi di più per te quindi mettere fine alla procrastinazione e perseguire una nuova sfida quindi qui magari qualcuno che se era magari anche impuntato che non voleva finire procrastinava cioè mandava all'infinito avanti magari no certi tipi di situazioni certi discorsi finisco non finisco faccio non faccio qua sembra proprio che alla fine invece scusate che accendo un'altra candelina allora qui sembra proprio che alla fine invece ce la fai cioè se hai proprio iniziato sembra proprio che sembra che sia la strada per te questa perciò continua vai avanti perché comunque informarsi istruirsi lo puoi fare sempre a qualsiasi età è sempre un ottimo segno ok quindi qua va benissimo se hai iniziato ancora un tipo di percorso di questo tipo adesso proseguiamo un attimo tiriamo giù qualche carta dei tarocchi per te vediamo un po piuma pesca stesa 1 cos'è che dobbiamo dire oggi vediamo un po a chi ha scelto la stesa 1 ci sono ancora cose sembrano qua in fase di state aspettando qui molti stanno aspettando qualcosa sono in fase di appesi sono in fase di pensiero anche a volte eccessivo che non sia qualcosa del passato come ci è avvenuto qua vediamo un po cosa c'è da dire a te vediamo questo è un periodo di grandi cambiamenti sembra qua effettivamente qui qualcuno ha in mente anche dei piani vuole costruire qualcosa vuole progredire vuole fare lo vedo proprio da qui qualcuno ha voglia di proprio di cambiare completamente la propria vita qualcuno qua ha voglia di cambiamento ma di quello vero quello radicale perché perché comunque ci sono stati o sei stata vittima o comunque il tipo di comportamento che c'è stato fino adesso è stato molto tossico per alcuni o l'ha ricevuto da qualcuno un atteggiamento tossico o comunque è il tipo di atteggiamento che adesso e magari per un po per un periodo della tua vita hai tenuto proprio tu che ascolti e che è stato un po' e hai capito che è il momento di cambiare di migliorare di purificarsi come ci diceva la dea del divino femminile perciò tu prosegui pure comunque sia con questi progetti che hai va bene perché saranno ufficializzate andando avanti prenderanno una strada veramente dritta come deve essere va bene quindi attenzione a non ricadere magari in certi comportamenti tossici che ti hanno tenuto un po' lontano o lontana dall'obiettivo qui abbiamo un sacco di arcani maggiori quindi chi ascolta in un periodo della sua vita molto importante che lo dica a fare guarda qua guarda che roba tutti tutti allora qua ti dico subito con una preponderanza così così facciamo un po' di corso i tarocchi allora con una preponderanza di arcani maggiori vuol dire che in questo momento sono molte le cose veramente importanti che fanno parte sia di un tuo percorso di anima di karma ok perché perché quando ci sono gli arcani maggiori il significato è molto più tra virgolette pesante ma non perché è brutto ma pesante nel senso di importanza questo qui ti trovi proprio in un momento della tua vita qua stesa uno piuma pesca in cui veramente molti vedo anche che dovranno trasferirsi o fare dei cambiamenti cambiare proprio andare cioè prendere le due ruote le quattro ruote quello che è andare ok perché perché comunque qua c'è una persona colta c'è una persona anche che ha conoscenza che ha capito tutto quanto va bene attenzione solo a questi due arcani qua che è il diavolo con la luna di portare alla luce veramente tutto ciò che ancora non ti è chiaro qualcosa che ti viene celato a te da parte di altri o che magari tu proprio ignori proprio tu stessa o tu stesso cerca di fare chiarezza la luna è un arcano comunque che ci nasconde oltre a indicarci va bene elemento acqua anche la maternità insomma per alcuni forse anche questo perché tra l'altro è anche vicino ad un'imperatrice quindi potrei anche pensare che tanti hanno intenzione di fare una famiglia o in famiglia tua c'è qualcuno che allarga la famiglia anche no se non è una gravidanza tua personale diciamo qua mi raccomando al fare luce al portare alla luce attenzione alle cose nascoste e segrete e cerchiamo di portarle fuori va bene molti hanno a che fare con persone vedo poco disponibili perché abbiamo anche un imperatore quindi comunque una persona che da lì non si sposta non si muove carattere molto testardo molto duro quindi qua c'è da venire qui c'è voglia tantissimo questa stesa me la sento proprio di dire che è proprio contraddistinta e caratterizzata da una persona che ha una profonda voglia di cambiamento ma di quello veramente tosto cioè veramente veramente grande perché tutti questi arcani maggiori ci dicono questo di te in questo momento ok perciò qua dovresti andare avanti come ti senti qua ti dice che ti devi purificare è anche la presenza angelica ma anche di persone comunque ok o tu è defunto che cosa che ti sono vicino che ti danno anche dei segnali ti danno diciamo dei modi per farsi vogliono farsi sentire vogliono farsi capire nel senso di dirti ti sto vicino qualcuno faccia anche la meditazione dei registri acascici è perché qua probabilmente c'è anche da andare a vedere non so qualcosa di vite passate ma con tutti questi arcani maggiori ne sono assolutamente certa chi sta continuando negli studi chi vuol cambiare posto ok qua ti dice proprio fallo qua va benissimo se eventualmente ti devi spostare qua ti è venuto fuori ecco perché non ho voluto fare una domanda specifica qua ti viene proprio fuori mi rivolgo a quelli che dovrebbero magari anche spostarsi per far qualcosa di spostarsi perché qua lo spostamento a parte che lo vedo e comunque sia ti danno il via libera qua tutte le carte ti danno il via libera attenzione solo a sradicare qui bisogna come no come quando si devono cambiare le radici veramente via cioè qui c'è da buttare via tutto ciò che è vecchio andare avanti con fede con forza con fiducia fai del lavoro personale comunque perché poi sei anche aiutata o aiutato qua no qui c'è il soffio di vento che ti ha detto sono qui ci sono perciò mi raccomando questo è da prendere al volo qui ci dicono positività cambiamento grandi progetti che potrebbero tranquillamente andarti bene però ci vuole qua una chiarezza personale una bella pulizia personale una bella purificazione anche energetica perché te lo dice proprio la dea del divino femminile va bene quindi qua mettiamo ancora un'ultima carta clou per te una sola per la persona che ascolta così mettiamo la nonna dei tarocchi vediamo un po' per la stesa 1 cosa abbiamo questa indecisione no questa c'era toglierla eh allora questa indecisione ci sta per carità ci sta perché comunque no qui c'è il 2 e il 3 di bastoni e quindi comunque procedi quello è sicuro però questa indecisione fa in modo di portare a di fare chiarezza di portare alla luce ciò che non è ancora chiaro nella tua vita perché probabilmente questa indecisione è dovuta anche al fatto che ti manca qualche pezzo di qualcosa non sei ancora il completo ma per quanto riguarda adesso il qui e ora non è detto che domani sia così perciò abbi fede questa indecisione questo non sapere che cosa fare qui però necessita la tua vita di essere capito eh che c'erano dei grandi cambiamenti perciò buon per te vai avanti perché i cambiamenti ci saranno non ci sono carte negative qua l'unica cosa ti ripeto un pochino più oscura di questa stesa è il fatto della tossicità di certi comportamenti va bene e cose che devono comunque venire alla luce ma vedrai che se chiedi la luce la luce arriva su qualsiasi settore della tua vita cioè non è che uno chiede la luce e viene illuminato solo un pezzo se uno chiede la luce la luce ti insomma ti inonda no ti purifica dalla testa ai piedi non è che la luce ne fa un pezzo e poi l'altro lo lascia quindi chiedi proprio questa guarigione totale e soprattutto dico sempre chiedete in modo neutro va bene dovete sempre chiedere in modo che quello che è meglio per voi arrivi non vi fissate sulla a o sulla b ma fate scegliere all'universo perché l'universo sa qual è la cosa migliore per voi ok più ma pesca stesa uno grazie mille di essere stata qui lasciami un like al video iscriviti al canale io proseguo e vado avanti quindi eccoci qua perché ha scelto la stesa 2 questa piuma la piuma appunto azzurra quindi che ha scelto la piuma azzurra vediamo subitissimo proprio la carta cardine per te di oggi il messaggio veramente principale che deve ascoltare vediamo qual è proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita 554 544 cambiamenti in arrivo eccoci qua che abbiamo dei cambiamenti quindi proprio in questo momento è un momento per te molto importante e comunque non sei sola o solo ma ci sono degli angeli coinvolti quindi stanno lavorando ok in gran silenzio o forse magari lo avverti anche non lo so però c'è un coinvolgimento anche di altre energie in questo momento nella tua vita perché ci sono dei cambiamenti in arrivo e ti dicono proprio vada bene come dicevo sin dall'inizio ma sin dal titolo proprio in questo momento cioè proprio quello che adesso tu devi sapere ed effettivamente ci è comparsa proprio la parola proprio in questo momento cioè che dire più chiaro di così che qui si guarda proprio il qui e ora in questa stesa va bene perché perché dobbiamo proprio andare a vedere in questo momento perché non è un caso ovviamente che ti è arrivato è questo video che stai ascoltando questa stesa allora vediamo la stesa 2 piuma azzurra un messaggio dall'idea del divino femminile cosa è importante adesso qui per chi ascolta cosa è importante al di là di qualsiasi desiderio personale vediamo cos'è realmente importante qui e ora per chi ha scelto la stesa 2 piuma azzurra e qual'idea ha un messaggio per la persona che ascolta ator ricettività qua ti dice allora qui dice permettiti di ricevere ce lo devi proprio permettere a te stesso e perché aumenterà se tu ti permetti di ricevere aumenterà la tua intuizione la tua energia e l'abilità la capacità di donare agli altri ti dice ator ok quindi qua permettiti pure di ricevere non avere paura non avere timore non avere proprio remore non ti tirare indietro perché se sei alla ricerca specialmente mi rivolgo a quelli che stanno ascoltando che sono anche in fase di crescita personale ok se sei alla ricerca di questo aumento di energia di consapevolezza intuizione quindi tutto ciò che può crescere in te per farti evolvere come anima perché questo sei venuto a fare qua sulla terra non è che c'è altro motivo eh l'anima viene si reincarna perché perché vuole evolvere ok verso l'ascensione verso comunque questo innalzamento di energia va bene quindi se vuoi diciamo aumentare tutto questo permettiti di ricevere mettiti proprio in ascolto mettiti in meditazione va bene ricevere si riceve quando comunque oltre quindi dicevo probabilmente riuscirete proprio ad avere delle connessioni molto importanti molto belle perché 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 vedo gente qua che comunque lavora ok adesso andiamo avanti e vediamo anche l'arcangelo vediamo un po che messaggio c'è vediamo ancora perché scelto la stesa 2 la piuma azzurra cosa c'è da dire adesso qui e ora alla persona soluzioni qui c'è venuto zachiel allora qui ci dice successo grazie a un giusto compromesso autocontrollo e pazienza energia di guarigione e del perdono adesso andiamo per bene a diciamo a vedere il significato di questa carta che ti è uscita che è comunque un arcano maggiore quindi vediamo l'arcangelo zachiel con la sua soluzioni che cosa ci vuole dire allora c'è zachiel che lavora con te per trovare l'equilibrio perfetto la chiave per il successo adesso sta nella moderazione e nel compromesso se ti senti stressato questa carta ti consiglia di fare un respiro profondo e di chiedere aiuto ai tuoi angeli e alle tue guide ci vogliono autocontrollo e pazienza per creare risultato di successo che speri ok considera le idee degli altri e cerca di capire il loro punto di vista la diversità di pensiero può innescare un corso d'azioni vincente la riconciliazione di punti di vista divergenti è molto probabile ora se ti avvicini a tutte le parti coinvolte con atteggiamento eco e inclina al perdono significa anche un approccio equilibrato una perfetta organizzazione soluzioni creative attraverso il compromesso energia di guarigione allora l'arcangelo zachiel è l'angelo della memoria può aiutarti a ricordare fatti o aspetti di situazioni che potreste aver dimenticato e anche l'angelo del perdono invoca l'aiuto di zachiel quando hai bisogno di ritrovare un punto di vista equilibrato sugli altri sull'esperienza del passato quindi qua ci ricorda la meditazione ci ricorda appunto l'equilibrio tra le parti tra le persone quindi qua c'è comunque da equilibrare ecco perché la deator ci diceva che poi hai anche l'abilità di donare agli altri no però tutto questo accade quando c'è un certo equilibrio nella persona che c'è anche qua c'è anche c'è anche però insomma c'è da aumentarlo sembrerebbe qua trovando anche a volte se serve un compromesso va bene perché qui lo dice proprio lo troverai il successo grazie a un giusto compromesso attenzione che il compromesso non è negativo è cioè il compromesso se è sano ok se è equo come ci dice zachie l'arcangelo zachie comunque sia ti porterà ad avere proprio quello che ti serve quindi mi raccomando un compromesso ma intelligente ed equo ok basato sempre sulla luce e su delle energie comunque di luce allora vediamo ancora qualche altro dettaglio che dobbiamo dire a te che ascolti allora vediamo ancora la piuma azzurra perché hai scelto la stesa 2 piuma azzurra vediamo un po' cosa che c'è da dire qua come è la situazione anche qui devo dire cambiamenti ma che vanno un pochino sembra a rilento da qui qualcuno che c'è anche i figli abbiamo qui c'è una grande forte indecisione semmeno alcune persone per quanto riguarda la famiglia e la casa forse qualcuno non so se vuol cambiare la famiglia non so qui abbiamo anche una morte ragazzi e quindi comunque aria di cambiamento non è un brutto arcano la morte sia sempre chiaro nonostante si presenta così però in realtà qua c'è un bisogno di cambiamento in famiglia sembrerebbe o qualcuno in realtà ha avuto già dei cambiamenti per quanto riguarda la famiglia in questo momento ha avuto una tristezza un allontanamento di qualcuno una cosa del genere sembra qua perché qui sembra tutto perduto ma in realtà non lo è ancora perduto qui serve l'equilibrio la scelta che ci riceva Zacchiel ok qui c'è questo 2 di denari che ci indica comunque una decisione da prendere un equilibrio da tenere ed è esattamente perfettamente coerente con quello che ci ha detto di qua il 2 di denari quindi qui ci serve proprio l'equilibrio a te che ascolti eh vediamo un po' qui qualcuno che si è silenziato che se n'è andato sembrerebbe qui vedo molto questioni per quanto riguarda la stesa 2 questioni molto per quanto riguarda l'amore devo dire qualcuno è anche stato ingannato sembrerebbe da un personaggio da qualcuno che magari ci ha saputo fare molto bene perché magari a livello verbale è una persona che ci sa fare molto bene che vi devo dire anche questo c'è perché abbiamo un arcano mago quindi comunque non è che sia negativo però in certi casi non so perché ma adesso mi sento di dire questo qui qualcuno è stato preso anche un po' in giro è stato un po' raggirato da qualcuno di molto abile ok che è molto abile a manovrare ok e non parlo solo di cose fisiche e materiali ma parlo anche di parole quindi qualcuno molto bravo a parlare e a saper girare discorsi come interessa a lui o a lei ok quindi qua c'è anche un silenziarsi di qualcuno effettivamente però ti vedo comunque una persona in cambiamento con energia molto amorevole dicevo qualcuno forse anche problemi con qualche figlio non lo so oggi mi fa un po' il telefono la ripresa un po' così eh allora spero che si capisca tutto bene comunque qua adesso bene o male il panoramico era questa quella che vi dovevo dire io credo che ci sono anche qua dei cambiamenti perché ci sono anche oltre ad avere diciamo questa energia carta cardine ricordati sempre che ci dice che ci sono dei cambiamenti in arrivo e gli angeli in questo momento ti stanno vicino proprio per questo perché qui c'è un cambiamento da fare vediamo un'altra carta ancora per te eh sì qui c'entra l'amore niente da fare come l'avevo detto qua c'entra l'amore stesa 2 qui c'è un qualcosa qualcuno convolerà giustamente con una persona che ama ok qualcuno sì perché qua c'è comunque sembra proprio andando avanti un lieto evento ok un lieto e felice una felice conclusione una felice finalmente no come avessi ottenuto un risultato per quanto riguarda l'amore veramente come tu speri o speravi come tu pensavi ok perché le soluzioni qua ci dice Zacchial ci sono quindi qualsiasi sia ricordo per esempio un interattivo è quindi cioè qualsiasi sia in questo momento il tuo campo però qua ci dicono che il cambiamento c'è ce lo dicono proprio tutte le energie qua va bene e necessiti proprio di equilibrio perciò alla fine vedo molto positivo tutto questo risponso per te stesa 2 l'importante qua è mantenere una certa concentrazione e una certa calma perché aiutano molto nella realizzazione nella vita di quello che ci interessa va bene allora stesa 2 mi raccomando mantieni di sempre bello positivo positiva io per il momento ti saluto lasciami un like al video iscriviti anche al canale ti aspetto presto in un prossimo interattivo aspetto tutti voi sempre sapete vi mando un grandissimo abbraccio ringrazio tutte le persone che mi scrivono con tanto tantissimo affetto veramente grazie vedetevi proprio tutte le novità di questo canale vi ricordo a tutti quanti la possibilità di fare una piccolissima donazione dove poi io risponderò ad una domanda per voi andate a vedere sotto la descrizione del video come dovete fare va bene per il momento è tutto per questo video vi ringrazio moltissimo di seguirmi e andate pure ad esplorare qualche altro video su questo canale vi ringrazio tantissimo ci rivediamo presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo ciao a tutti